Andamè, la mente, forte e tesa, col colitetta, attenzione, la timata, la mente, la mente, la mente, Renzi, ma che gol che ha fatto, ma che gol che ha fatto, semplicemente straordinario, Francesco Renzi, sapò, un gol fantastico di Renzi. Tanto grazie a tutta la squadra, perché quando si vince, si vince tutti, quando si perde, si perde tutti. Per quanto riguarda il gol, ho visto la palla alta, l'ho provata, ecco, non sempre va bene, oggi andavo bene e sono felice, molto, molto felice. Un gol così va dedicato, dai. Sì, va dedicato, è una idea proprio a mamma e per chi mi vuole bene, ecco, e mi sta accanto.